Saluto Cino e Dernico a minima non micro Vi ringrazio per avermi onorato col vostro invito Saluto l'insonne pubblico di webnotte Questo qua è reporte, notizie rapate e forte Ma se vi dico Ebola, minchia che paura Altro che Isis, this is la natura Il virus prende nome da un fiume, il fiume Ebola Dove è apparso per la prima volta 40 anni fa Si trasmette per contatto diretto Con i fluidi del corpo dell'infetto Sangue da un taglietto, l'urina sopra il cesso L'umido delle lenzuola sporche nel letto Poi, dopo una fase di incubazione temporanea Arrivano febbre forte, vomito, diarrea Seguiti da un processo di eruzione cutanea Pusto le vesci che l'uomo bianco fa L'hanno chiamata linguefazione spontanea Solo per rendervi l'idea Stanno nella merda, situazione sanitaria Di Sierra Leone, Liberia e Guilea Io vi sto parlando di un fenomeno virale Di cosa vuole dire in Africa occidentale Qualcosa di reale che ti fa stare male In fondo, una cosa da reprimere Se invece parliamo di fenomeno virale Di cosa vuole dire qua nel mondo occidentale Una cosa virtuale che non ti può toccare In fondo, qualcosa da condividere Se ben ritrovati sul report Da minima non micro È tutto A voi la linea Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.